Nel 2002 debutta nel cinema come protagonista del film Tornare indietro, regia di Renzo Badolisani, che gli vale il globo d'oro come miglior attore esordiente. A questo film fanno seguito altri ruoli da protagonista nei film La Buffata, regia di Mimmo Calopresti, e Il germe del melograno, regia di Silvana Strocchi, entrambi del 2007. In televisione ha partecipato ad un episodio della serie tv di Canale 5, Distretto di Polizia 4, 2003, ed ha una puntata della serie tv di Rai 1, Gente di Mare, 2005.